buongiorno e dovrei dire buon pomeriggio in effetti sono già passate le 14 una bella giornata ma bella per le sensazioni insomma ecco mi direi come ce la fai come ce la fa un allenamento ce la vo allora non si tratta neanche di vivere la giornata ma si tratta di creare pace fermi tutti fermi non è per tutti sto messaggio per chi capisce fermi tutti ai propri posti tranquilli respirare di pancia ci stanno a provare respirate bene finché c'è vita c'è speranza beh io ci credo in questo c'è chi può ribaltare tutto in qualsiasi momento io auguro il bene a chiunque per carità non mi sento su una particolare barricata anche se bisogna barricarsi abbastanza oh baric la baric ma avete mai visto una baric avete mai ospitato una baric oh io sì e veniva da 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 adesso ve lo dico eh da montalcino eh una volta quando avevo un marito oh ma sono passati tanti di quegli anni però dicevo quando un marito l'ultimo marito insomma ventennio fa per un periodo insomma si andava a montalcino ad acquistare il rosso il rosso buono buono anche se io preferisco altri rossi io preferisco i rossi piemontesi quelli belli tosti quelli che sporcano e quelli anche un po' ignoranti però anche quelli non proprio ignoranti è tipo un bel barolo un balbera beh ah beh mi piacciono corposi mi piacciono alla giusta temperatura mi piace proprio centernina proprio ecco ma ho assaggiato anche un dei rossi siciliani dei rossi sardi no sardo rosso uno che mi ha lasciato destucco proprio e poi allora sì un pugliese buonissimo e qui abbiamo un rosso in questa zona ma quello delle cantine quelle che dicono vabbè ma il vino fatto in casa legramo legramo un pifero io sto aspettando a parte il mosto che me lo sto facendo ma dal mio vicino io spero che mi allunghi una bottiglia di rosso perché quanto è buono comunque anche il il biondo dello scorso anno della titi quest'anno secondo me il bianco sarà pessimo io non ho assaggiato un grappolo d'uva decente chiara aspra cattiva aspra invece sto vendemmiando da un pergo l'ho lasciato lì perché i proprietari vivono in svizzera e i parenti non la ritirano è che la lascio a marcire come la no no è perfetta me la sto mangiando un grappolo al dì anzi ieri due è dolce non solo dolce succosa la buccia non è cattiva per niente io poi schiaccio schiaccio lascio lascio proprio allagare la mia bucca dopo la meraviglia di succo e quanto mi sono seduta per terra su uno scalino a godermi il cielo a godermi il paesaggio di fronte a me montefiascone poi ci sono quei colori ieri sono uscita presto comunque ero in giro verso le 17 non so di solito esco più tardi ma mo fa mo è notare fa buio presto io vorrei queste temperature con la luce fino alle nove e mezza io sono ligure ci ho messo un po a capire che più si scende più le stati sono brevi non sono come quelle al nord e che caspita però non ci avevo pensato chi è abituata al buio al verso le 22 quasi no nel momento di maggior luce se ci occorre e quindi io l'estate andrei al nord dove c'è fresco perché al nord fa pure caldo è da qualche decennio questa parte zanzare con andrei in montagna al fresco con le giornate lunghe e il giacchettino a me non è che me ne importi molto di stare con le braccia nude sinceramente scalza io sto bene con le caussette poi mi metto i calzoncini di bermuda ormai ragazzi è perché un buon gusto e sto bene perché poi sgambetto cammino con quelle temperature cammino col caldo non cammino mi dovrei alzare molto presto quest'anno l'ho fatto di alzarmi presto ma non di andare a camminare in giro perché ero un po preoccupata per la mia mini menu devo dire la verità mi dispiace vederla così poverina tesorella lei che camminava tanto e va bene insomma comunque se passeggiate ce le facciamo ugualmente e insomma tutti ai propri posti ai blocchi no no tranquilli tranquilli preghierine ne sappiamo le classiche fatelo datemi retta che adesso pare figo io sono più per l'am che per l'om sinceramente am guardate il mio am è proprio prolungato vabbè comunque pace interiore fiducia affidarsi poi c'è quella bella preghiera di dondolindo che da quando l'ho scoperta tardi mannaggia perché il culo non chiede chiedetevi sarà è che non chiediamo e quando chiediamo pretendiamo è proprio lo spostamento delle montagne ma è una cosa bella lo so non è per tutti lo so che è una fatica lo so che c'è tanta demoralizzazione da tutte le parti ecco e poi ascoltiamo le notizie dall'estero vediamo vediamo se vogliamo vedere perché i canali ufficiali fanno vedere poco niente artefatto però insomma abbiamo la possibilità ecco ci sono scusanti insomma di trovare le informazioni di comparare di ragionarci su insomma e allora di cosa vogliamo parlare oggi dopo questo state calmi lo dico alle persone che hanno che sanno insomma state calmi stiamo calmi e domani è una bella festa domani è una bella ricorrenza quindi magari pensiamo anche a quello e allora cosa torno a dire cosa di cosa parliamo allora che sono andata al mercato e ho comprato un sacco di ortaggi freschi e belli e profumati e sono contenta perché poi ho trovato anche la mamma della ragazzina amante della maglia e la questa mamma era insieme ad altre due mamme che carine mi danno del lei ma non lo faccio per mantenere distanze è una cosa carina per rendersi conto di essere arrivate grandi sono anziana una persona anziana con più 59 anni perché ci sono le fasce giovani i ragazzetti i bambini c'è la prima infanzia c'è l'infanzia la preadolescenza l'adolescenza poi c'è la gioventù che poi è sempre adolescenza poi c'è la gioventù un po' più ma è che è sempre adolescenza poi c'è la maturità dura poco perché poi arriva subito la vecchiaia e poi c'è una insomma c'è l'anzia ma vabbè c'è l'anzianità poi c'è proprio la vecchiaia la maturità quella tanta io vorrei arrivarci anche per capire cosa cosa non lo so se conviene di ci vorrei arrivare chissà quante se ne dovranno vedere però se posso essere utile allora io mi rendo mi rendo utile insomma in qualche modo cosa posso fare io per rendermi utile più che tenere alti i vostri cuori e più che dire quello che mi viene per la testa tanti di me lo stai zitta che è meglio e no io dico e tanto posso cosa posso come posso rendere utile comunicando le mie passioni raccontando come vivo i filati cosa cosa mi hanno raccontato tanti filati cosa mi racconterà cosa stanno raccontando perché ne abbiamo di nuovo non è che li ho proprio assaggiati tutti e quindi ogni volta che mi capita un filato io lo guardo nelle palle degli occhi come diceva mio padre e ci guardiamo e a volte con qualcuno non entriamo in sintonia deve essere proprio vicendevole la cosa succede anche tra i filati e invece con altri e sono tutti diversi nonostante le tante differenze ci si capisce al volo e allora iniziano i dialoghi le chiacchiere anche i silenzi condivisi con i miei filati si me li tengo vicini arriva scusate